Come hai fatto a riuscire a catturare una cos'è? È stato un colpo di fulmine. Colpo di fulmine? A lei? Aspetta! Giro, vuoi che te l'intendi con la cuoca? Dove è andato il mio maialino? Vieni qua, bello da papà! È arrivata l'ingiunzione di pagamento, cioè ci fottiamo i mobili tuoi. E così mu dici? È in arretrato sul mutuo di 90.000 euro. Passiamo alla voce, per favore. Anche sottovoce, sempre 90.000 euro sono. Vaglia, fravaglia, fattura che non guaglia, corna, picorna, fattura che non torna. Dieci. Lei si è fissato con quegli stupidi numeri. Dieci, venti, trento, quaranta. Cinquanta e sessanta. Venti. Al superenalotto, gioco sempre questi sei numeri. Che? La vita non si cambia così. Eh, se vengo al superenalotto, faccio rego, mi migliora la vita mia. Trenta. Perché l'avvocato ora a tua ex voglia? Non le paghi gli alimenti. Con quelle che le passi potrebbe aprire un alimentari. Quaranta. Io voglio arrivare vergine per la persona giusta. C'è, fai sicuro. Cinquanta. Ma tu immagina quanto è difficile sognare uno come te? Eh. Mi stacco quello lì. Sessanta. Quanto, mio Dio! Cento, venti, milioni! Cento, venti milioni. Perché la vincita di Gaetano è un signor del cielo che mi ripaga di tanta sofferenza. Vuole una carta? Eh, no, sto bene così, non vorrei sbagliare. Sto pensando alla ricevuta. Ma tu l'hai messa? No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi, eh? E io il marito. Tu hai perso la testa per questa storia della vincita? Sei invidioso. Non ha vinto Gaetano, va bene? Oh, ma è vero che non hai giocato? Io devo scoprire chi ha giocato la mia sestina vincente. Ehi, Gaetano, Nicola! Ti conosco, caro. Sono Svaldo. Deve essere un fan. E allora fangolo. Arricchizzi. Arabe du te, porra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.